Baruffi Cars, appoggi i ridenti. Come già annunciato nei giorni scorsi, la morsa del caldo ha messo alle strette anche il ghiacciaio dello Stelvio, che mai prima d'ora aveva dovuto alzare bandiera bianca e fermare temporaneamente lo sci estivo. Ma le temperature fatte registrare la scorsa settimana sul ghiacciaio, che ricordiamo è situato tra i 2758 e i 3450 metri, hanno persino raggiunto i 10 e i 12 gradi, non lasciando scampo alla Sifas, la società che gestisce gli impianti di risalita. Fortunatamente il calo termico degli ultimi giorni e la perturbazione di domenica hanno fatto cambiare aspetto al ghiacciaio, anche se si è trattato comunque di una sola spolverata. Nelle prossime ore sono attese nuove precipitazioni nevose e chissà, magari si potrà anticipare la revoca della chiusura, al momento fissata per giovedì 17 agosto. Ad ogni modo, per gli asciottatori niente paura, sono state organizzate attività alternative, grazie all'utilizzo delle funivie che non sono state bloccate.